L'esigenza di scrivere questo libro l'ho sentita forte in questi ultimi due anni soprattutto perché mi pare che il tema dell'integrazione sociale abbia subito qualche attacco ultimamente. Le conquiste che sono state fatte in questi anni mi pare che ultimamente siano state messe un po' in discussione sia per quanto riguarda la scuola sia per quanto riguarda il lavoro più in generale l'integrazione sociale e quindi è un po' sulla base di questa indignazione che mi ha colto in quest'ultimo periodo e che ho provato a scrivere questo testo. Naturalmente è un testo che non si ferma solo a denunciare una situazione difficile ma cerca anche di fare un approfondimento culturale sui temi dell'integrazione cioè cercare di capire quali sono i meccanismi sul piano psicosociale che possono in qualche misura influire positivamente o meno sul tema dell'integrazione. Dal punto di vista quantitativo sono molto contento perché il libro ha esaurito subito la prima edizione quindi è stata ristampata la seconda che nel nostro settore è già un grande successo. E poi devo dire che sono rimasto molto colpito da l'intensità dei commenti, delle considerazioni che le persone che hanno letto il libro mi hanno in qualche modo riportato. Effettivamente avevo anche qualche preoccupazione perché affronto questo tema con una chiave di lettura un po' complicata che è quella delle rappresentazioni sociali e quindi pensavo che fosse in certi versi anche un po' difficile ad una lettura così immediata. Invece ho trovato un riscontro positivo anche tra le famiglie, tra persone che non hanno una competenza tecnica specifica che però hanno letto e hanno apprezzato il libro mi sembra in modo così importante. Quindi devo dire che nonostante le preoccupazioni che avevo di un libro magari un po' troppo complicato per certi versi, in realtà invece sono molto soddisfatto. Tra l'altro è stato adottato anche in alcune facoltà come libro di lettura, di testo eccetera. Questo mi ha fatto molto piacere, insomma. Sono contento. Non credo che ne scriverò un altro a breve perché è stata un'esperienza molto faticosa soprattutto per chi ha un'attività lavorativa in prima linea, di operatore che lavora in un servizio e quindi lo scrivere è sempre molto complicato. Però devo dire che sono molto soddisfatto.